vorrei spendere una parola per il caso magnan per come si sta muovendo indubbiamente la punizione di far fare una partita a porte chiuse l'udinese è penalizzante per la società penalizzante per i tifosi sicuramente è un segnale che dice stiamo più attenti quello che mi lascia perplesso e che tra le persone che hanno preso magnan c'è una persona di colore cioè quello che io cerco di capire in un calcio moderno come questo che dovrebbe fatto di telecamera all'interno degli stadi dove puoi trovare le persone che commettono questi atti il 47enne il primo che è stato trovato gli è stato tanto 5 anni di daspo quindi non potrà andare allo stadio però quello che è assurdo è che l'udinese i tifosi dell'udinese insultano magnan che di colore quando hanno tre quarti di squadra se non quasi tutta la squadra con giocatori stranieri e principalmente africani o arabi quindi questo lascia perplesso ma quello che lascia ancora più perplesso è una persona di colore quindi che dovrebbe capire sapere quanto è cattiva la gente quanto si viene colpiti sul personale quando l'ignoranza della gente fa considerare diverso uno dall'altro per il colore della pelle sapere che una persona di colore insulta un'altra persona di colore il livello è proprio proprio veramente basso e questo dovrebbe farci riflettere ecco riflettiamo su come ci stiamo comportando e su come vanno le cose nel nel calcio italiano perché così non va bene bene